Arte e vino, un connubio sempre più perfetto. E sì, perché questa volta è un'alta Bespratis, è la volta delle tenute Masciarelli, che decidono di coinvolgere tre artisti internazionali, Smith, Marcantonio e Iacurci, per fare una residenza nelle loro tenute in Abruzzo. E in quell'occasione iniziare a pensare a quella che sarà l'etichetta del loro vino di punta in Montepulciano. E così nascono per tre anni di fila tre edizioni limitate di questo vino di punta della cantina. Un'esperienza fantastica che lascia la testimonianza della loro residenza anche all'interno delle tenute. E noi non ci piace che pensare che sia solo l'inizio di una lunga serie di vine da bere, da collezionare. E quindi una grande tenuta Masciarelli che per giunta inaugura il suo spazio a Milano, un hub di incontro per poter condividere la passione del vino in pieno centro e in piena visione in questo momento di condivisione e di passione tra arte, design e vino. Non ci resta che brindare insieme.